Uomo moderno, adulto, eppure talora debole nel pensiero e nella volontà, la forza vivificante della sua luce ti incoraggia ad impegnarti nell'edificazione di un nuovo ordine mondiale fondato su giusti rapporti etici ed economici. Il suo amore guidi i popoli e ne rischiare la comune coscienza di essere famiglia, chiamata a costruire rapporti di fiducia e di vicendevole sostegno. L'umanità unita potrà affrontare i tanti e preoccupanti problemi del momento presente, dalla minaccia terroristica alle condizioni di umiliante povertà in cui vivono milioni di esseri umani, dalla proliferazione delle armi alle pandemie e al degrado ambientale che pone a rischio il futuro del pianeta. Grazie 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 Grazie